Buona giornata da Leonor. Lavoro di magia russa con uno stavro unico per raggiungere gli obiettivi. In questo caso, logicamente, viene creato seguendo specifiche manovre che non possono essere fatte conoscere al pubblico. E dopodiché l'ho attivato e l'ho programmato. Ora sarà attivo finché ho deciso io e di modo che questa ragazza su cui io sto lavorando raggiunga il suo obiettivo che è quello di riuscire a passare senza debiti o al massimo un debito. Il lavoro l'ho fatto per la madre che è lei la richiedente, logicamente. E questo è il lavoro. Grazie. Grazie.